i piccioni e andiamo là dove c'è Stefano che non ci sono i piccioni non ci sono i piccoli non ci sono i piccoli non ci sono i piccoli ti ricordi come mi chiamo? no non ci sono i piccoli non ci sono i piccoli non ci sono i piccoli ok andiamo dall'altra parte dentro nell'abitazione permesso poi purtroppo abbiamo il problema delle macchine che passano sfrecciando a tutto andare c'è qualcuno che vuole parlare con noi? che ci vuole dire qualcosa? cosa c'è? ancora piccione morto ancora piccione morto? non ci sono i piccoli 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 Questo povero Cristo, qua ancora dall'anno scorso, ormai sono rimaste solo le penne. Ma non si può rimontare quella porta e chiuderla? Allora qua dentro sembra che qualsiasi cosa dici ci siano i piccioni che ti rispondono. Purtroppo io sono entrata e ho fatto un po' di domande ma mi sono accorta che non stavo registrando. Va bene, rifacciamo le domande allora. Stavo dicendo, l'altra volta in questa chiesetta abbiamo avuto tantissimi EVP ambientali. Quindi se c'è qualcuno che vuole parlare con noi si può avvicinare a questo apparecchio che è in mano, che è un telefono, anche sussurrare solamente. Non sentiremo subito, perché non abbiamo la possibilità, ma sicuramente a casa riguardando il video possiamo sentire se avete qualcosa da comunicarci. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Potete fare anche solo un rumore per farci capire che siete qua. Spero che non mi cagli in testo qualche piccione. Eccolo lì. Allora salutiamo tutti. Entità che vivono in questo luogo, noi ce ne andiamo, vediamo il disturbo. Rimanete in questo luogo, in pace. Se cattureremo degli EVP buoni, magari ritorneremo. Vediamo. Speriamo. Ciao a tutti, rimanete in questo luogo, state in pace. Ciao, buon Halloween. Buon Halloween. Intanto vi salutiamo con le riprese di questo castello meraviglioso che purtroppo sta cadendo in rovina. siamo entrati. Molto pericoloso. abbiamo rischiato di rimanere sotto. Cadevano blocchi a tutto andare. Purtroppo... E' vero? Non abbiamo messo le riprese del castello? No. Fussato. Adesso non passa più nessuna macchina. Guarda che roba, sembra farlo apposta. Sì. Sì. Guardate, siamo dentro, abbiamo fatto tre indagini, un casotto dalla Madonna. Adesso non passa nessuno. Guardate. Il deserto, sentite. Com'è sta storia? Un casino c'è stato di macchine da quando eravamo dentro. Veramente, non possono le macchine. No, guarda, assurdo. E vabbè, anche questi sono gli inconvenienti del paranormale. Questo è il castello abbandonato, purtroppo siamo entrati una volta, ma è molto pericoloso. E non c'è niente di bambini. Ma molto, molto, molto. Da qualche parte abbiamo i video che arrivano a fila di macchine. Si vede un po' meglio che è questo. Però veramente, ragazzi, noi l'altra volta siamo entrati, ma è pericolante al massimo. È una cosa allucinante. Cioè, proprio, potrebbe venire giù da un momento all'altro. Quindi, vi salutiamo, alla prossima. Ciao a tutti. Ho fatto scaricarsi sta batteria. Stai registrando? Sì. Bravo. Oh, ma è batteria piena. Guarda, Fabio. Impressionante. È blu. Cos'è che hai detto prima? Batteria scarica, goodbye, si è spenta. È uscita la schermata blu. Piena. Guardi, questa è dura. Eh, infatti. Prova da macchina. Ti ha perculato? Mi ha perculato. Meno mai che ne abbiamo altre. Ecco. Perfetto. 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 Grazie a tutti.